Bene ragazzi io sono Martex bentornati su un nuovo video di Fortnite Ragazzi il video mattutino di oggi comincia appunto dal menu principale Perché andremo a scoprire per prima cosa il negozio oggetti Dato che mi voglio collegare ad un qualcosa che forse ancora non sapete Quindi negozio oggetti raga questo è lo shop di oggi e mi piace davvero tantissimo Le due skin bellissime che sono uscite ieri da 800 V-Bucks sono rimaste per altre 24 ore nello shop Quest'oggi abbiamo ben tre oggetti raga tra cui un emote da 200 V-Bucks un bellissimo backpack da 400 ed una wrap invece da 500 Ragazzi li andiamo a scoprire subito eccolo qui il nostro meteorite eccolo raga Forse le particelle potevano essere un pochettino più movimentate Però carino dai diciamo che è proprio un pezzo storico da portare in spalla La descrizione dice di ritorno dall'aldilà Diamo un'occhiettina anche alla wrap che ancora non ho visto È similissima a quella della lava da 700 V-Bucks controlliamo Mi piace Mi piace perché sembra che ci sia un suolo lunare addirittura ragazzi con tutta questa fiammata che scorre Continuiamo Raga GG mi piace Li moti invece raga sono andati a tradurla in ruttino Che alla fine non è altro che un esercizio a corpo libero ma raga guardate qui Ok Stabilisci un nuovo record personale Adesso facciamo ripeti animazione sperando che la becco al primo colpo Vediamo Ok raga va bene va bene Per 200 V-Bucks diciamo che abbiamo una doppia emote Ripetiamo Avete capito no? Saltelliamo e ruttiamo Comunque ragazzi io il meteorite lo vado subito ad acquistare Subito 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 instant buy E compriamo anche la wrappozza via Meteora Let's go Raga mi raccomando come sempre vi ricordo che se volete supportare tutti questi video mattutini Assieme a tutte le live che vado a caricare qui sul canale Vi basterà cliccare qui in basso a destra su supporto un creatore Digitare al centro della schermata il mio codice JKR Martex Tutto attaccato Cliccate su accetta e aggiornatelo ogni 14 giorni Questo volevo dire da inizio video che si andasse appunto ad affiancare lo shop giornaliero Ben presto ma non questa settimana e neppure la prossima ragazzi Dovrebbe essere implementato in gioco un nuovo evento Che appunto ci permetterà di effettuare delle votazioni direttamente nello shop giornaliero Ancora non si sa quanti giorni durerà questo evento Ma comunque avremo dei ticket giornalieri da spendere che funzioneranno come voto Mi spiego meglio Ogni giorno loggate in game ed avete un voto a disposizione Quindi ci saranno determinate skin appunto proposte dalla Epic Games E voi potrete votare l'item che più vi piace Quindi quello che secondo voi dovrebbe ritornare nello shop oggetti Queste sono le immagini che sono state trovate nelle cartelle di Fortnite Come potete vedere vi è un counter che appunto segna l'orario in cui andrà a finire poi l'evento Ci sarà anche una bella immagine sotto agli item che state scegliendo con la scritta hype Quindi appunto potrete vedere direttamente quali sono gli item più scelti dalla community di Fortnite Attenzione però ragazzi qui super disclaimer Non è assolutamente detto che tramite questo evento riportino skin in gioco super og Quindi è ovvio che se vi vado a parlare di un evento del genere dove si può votare la skin che rivolrete in gioco Subito si va a pensare all'Assault Trooper, alla Renegade Raider, alla Ghoul Trooper Ma non è proprio così che funzionerà perché appunto come ho già detto pochi secondi fa Vedrete direttamente in gioco quali sono gli item proposti della Epic Che appunto potete votare e quindi far tornare in gioco Anche perché sono state trovate due stringhe dove una dice grazie mille per il tuo voto E l'altra il vincitore verrà riportato nello store quindi nel negozio oggetti L'oggetto che avrà ricevuto poi più hype da tutta la community ritornerà nello shop però non so entro quanto tempo Detto questo ragazzi spostiamoci subito in game perché voglio spendere due paroline riguardo a ciò che potrebbe accadere molto presto su Fortnite Raga ieri nel video mattutino vi ho parlato di una zona far west che potrebbe essere implementata Anzi sicuramente verrà implementata perché i file parlano chiaro Molto presto in gioco Vi ho chiesto anche tramite i commenti secondo voi quale potesse essere questa prossima città che verrà cambiata in questo modo Ed in molti hanno indovinato raga è proprio pinnacoli pendenti Ed a quanto pare questo campo antigravitazionale potrebbe spostarsi da spawn del saccheggio proprio lì Quindi ragazzi secondo me sarà super epico vedere una città come neopinnacoli ovvero super futuristica Tornare nel passato e diventare pinnacoli del far west Quindi è proprio ragazzi qualcosa che si va a capovolgere Diventerà l'esatto opposto di com'è in questo preciso istante Comunque raga quando questo campo antigravitazionale si sposterà lì quindi a pinnacoli Il tutto dovrebbe risultare così Ovviamente andate ad immaginare una pinnacoli del far west e non questa pinnacoli pendenti che state vedendo che appunto è la futuristica Come vi ho già detto i vari leakers stanno cercando di cambiare file su file Non appena avremo una versione un po' più elaborata ragazzi vi porterò un altro video Comunque è molto probabile che tutto questo accada settimana prossima Questo perché non appena andranno a concludersi quelle che sono le sfide squadra brutto Verranno aggiunte quelle di sparatoria al tramonto L'unica cosa di cui ancora però non sono super sicuro È che essendoci anche lì poi a pinnacoli del far west un campo simile a questo Non so se anche lì si potrà fluttuare perché se è così davvero raga non ci andrò mai Questa cosa comunque mi ricorda tantissimo il cubo Kevin Vi ricordate tutti quei campi antigravitazionali che si formavano ogni volta che il cubo si andava a appoggiare precisamente sulla runa Quindi quando la runa era in stampa si andavano praticamente a creare queste sfere trasparenti sul terreno Dove all'interno tra virgolette si poteva volare Credo che stia succedendo una cosa similissima E dove passerà questa sfera quindi dove arriverà il suo nucleo Trasformerà le cose del futuro quindi come sono in questo momento in cose del passato Una curiosità di questa zona che verrà creata è che ci saranno forse degli edifici in cui non si potrà fightare Vi ricordate il continental che è proprio di fronte a noi in questo momento in cui appunto non si potevano utilizzare le armi? Il tutto ovviamente si andava a collegare alla collaborazione con il film John Wick Cosa strana però nel trailer della season X ragazzi vediamo questo cartello che ci mostra appunto il vietato buildare Non lo so raga Tra l'altro raga mentre stavo registrando questo video sono fuoriusciti ulteriori file Seguendo sempre questo noto leaker for story ho visto che è riuscito a scovare un oggetto che nei file di gioco si chiama Rift Bacon Queste sono le immagini che riguardano quest'ultimo e a quanto pare ha a che fare con il Nexus, con il Rift e con il .0 Inoltre raga quando tutto questo nucleo si sarà spostato a pinnacoli sappiate che sentirete un suono diverso Anche perché avrete sicuramente notato che quando entrate in questa zona si riescono a sentire dei suoni stranissimi Osserviamo meglio guardate raga Ok Questo tipo di suono cambierà Quindi ogni volta che entrerete nell'area del far west di pinnacoli pendenti ragazzi riuscirete a sentire dei suoni come questi Mi piacciono un sacco ragazzi mi piacciono davvero tanto Come idea ragazzi è parecchio carina Comunque ragazzi non dimenticate di condividere con tutti i vostri amici tutto ciò che vi sto dicendo all'interno di questo video E mi raccomando ditegli di iscriversi Io spero come sempre che questo video comunque vi sia piaciuto raga se così fosse lasciate un bel like Noi ci becchiamo molto ma molto presto in una live oppure in un prossimo video Un saluto da Martex SIA PLETRZ SIA PLETRZ